Musica Bentornati in diretta per questa nuova puntata di Primo Cittadino che torna ad ospitare il sindaco di Fano Massimo Seri Bentornato sindaco Grazie, buonasera a tutti e soprattutto buon anno visto che siamo ancora all'inizio dell'anno anche se sono passate già due settimane E poi speriamo comunque di poterla avere nostro ospite anche in un'altra puntata di Primo Cittadino prima di iniziare con occhio al voto in vista delle elezioni Vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta sono sempre gli stessi 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio breve su whatsapp al 338 49 68 250 Sindaco vorrei iniziare dalle polemiche che sono sorte in questi ultimi giorni Partiamo da due foto che sono state pubblicate sui social e che si riferiscono a degli striscioni che sono stati affissi al Mancini Preso atto del costo del biglietto per la partita contro il Fossombrone i tifosi non sono entrati allo stadio In un comunicato diffuso sui social avevano giunto cogliamo l'occasione per chiedere all'amministrazione comunale quando abbia ancora intenzione di aiutare questo non gradito personaggio per quanto tempo Riferendosi a Russo è d'accordo lei con le ragioni della protesta Sindaco? Il Comune può incidere in queste decisioni? Intanto per quello che mi riguarda io mi sono adoperato ho provato a chiamare il Presidente ho avuto modo anche di parlarci Devo dire insieme a me c'è stata anche una sensibilità del Vescovo che ha visto questa situazione trattandosi anche poi di Fano Fossombrone Visto che la diocesi proprio perché ha questa sensibilità ed è un peccato quando si verificano queste situazioni Purtroppo si sono verificate questa realtà, questo aumento del prezzo della cura lo reputo un errore come hanno detto anche altri E lì nasce da risentimenti, da in qualche modo stati d'animo che il Presidente ha E' chiaro che è venuto meno un rapporto di fiducia tra la città, tra i suoi sostenitori e il Presidente Però va anche detto che in questo momento sta portando avanti il campionato perché il rischio era quello di fermarsi e gli impegni che ha assunto li sta mantenendo E' chiaro che da Sindaco mi piacerebbe che si potesse ricreare una fiducia perché c'è una tradizione importante ma questo la vedo difficile Onestamente mi dispiace, mi dispiace perché la piazza di Fano calcisticamente parlando è una piazza importante Devo dire anche un tifo responsabile che ha una sua sensibilità anche diversa da molti altri tifi che ci sono in altri stadi Quindi capisco anche le loro ragioni, un Sindaco è chiaro che quando si parla di complicità qui non c'è nessuna complicità Qui si cerca, chi ha la responsabilità di amministrare una città cerca anche di capire quali possono essere i percorsi migliori per arrivare In questo caso l'auspicio è quello di arrivare a fine campionato con la salvezza e ripartire poi con un nuovo percorso Tra le polemiche ci sono anche situazioni riferite al progetto del campo dei militari Anche su questo ovviamente io l'ho spiegato e mi piacerebbe anche rincontrare i tifosi Probabilmente lo farò con alcuni, ho avuto modo anche di parlare Qui non è che andiamo a fare un favore a qualcuno, intanto facciamo un favore alla città Se questo si realizza perché qui arriva un contributo esterno di 500 mila euro per una proprietà dell'amministrazione comunale E in ogni caso noi ancora non abbiamo dato nulla, questo sia ben chiaro, abbiamo approvato un progetto Poi se ci sono le condizioni, le condizioni sono di progetto, di rapporto, ovviamente si prosegue Altrimenti no, questo va detto, però è un progetto nell'interesse della città Dove chi mette le risorse ovviamente si assume anche un proprio rischio Prima di passare tanti messaggi che ci sono arrivati abbiamo una telefonata per lei Sentiamo chi c'è in linea, buonasera Buonasera, buonasera signor sindaco Buonasera Salve, io abito in una traversa di via Kennedy Io praticamente il pomeriggio quando torno verso casa La gente che abita lì o che va in città parcheggia a spine di pesce Praticamente ho difficoltà per tornare a casa Nel senso fa ridere perché le dico O vado addosso alle macchine o investo la ciclabile Perché sono nel mezzo praticamente la spine di pesce Praticamente è quasi a ridosso della corsia e praticamente devo stare un pochino più là con la macchina e praticamente con le ruote vado sulla ciclabile È possibile rivedere un attimo questo tipo di parcheggi affinché ci scappa qualcosa? Perché è molto pericoloso signor sindaco Lì le do una buona notizia A dicembre, a fine dicembre abbiamo fatto la gara d'appalto perché lì via le Kennedy verrà tutta riqualificata con la pista ciclabile, risistemata il modo di parcheggiare E quindi verrà riqualificata e messa anche in sicurezza per perdoni, ciclisti e una sistemazione del modo di parcheggiare Quindi la gara è stata, non penso che abbiano consegnato ancora i lavori ma è questione di pochissimo e poi partiranno i lavori io spero entro la primavera Oh che bello, una bella notizia, grazie sindaco Grazie a lei per il suo intervento Le chiedono sindaco, è il corrente che nell'asilo la scatola magica di Rosciano c'è un'infiltrazione d'acqua piovana dal soffitto dell'androne d'ingresso E' stata segnalata da svariati mesi e nonostante i sopralluoghi dei tecnici, i tecnici del comune, sembra che ancora non si sia provveduto Quindi magari se è possibile, se ci stanno ascoltando anche i vari tecnici degli uffici Sì no, i tecnici sono informati, qui adesso lo dico, ovviamente noi abbiamo delle risorse per le manutenzioni, in questo caso si tratta di una manutenzione Ovviamente poi c'è anche una programmazione, il coinvolgimento di ditte, quindi non è che si può intervenire il giorno dopo Ci sono delle procedure che richiedono un po' di tempo però hanno, su questo c'è un'attenzione forte verso le strutture scolastiche per ovvie ragioni Quindi è solo questione di tempo in calendario Vado spedita Sindaco perché vorrei accontentare un po' tutti i cittadini che ci hanno scritto Quando verrà asfaltata la strada di via Crocelevata a Falcinieto ogni giorno devo percorrere questa strada che è in condizioni pietose e disastrose? Sì, ha ragione, noi abbiamo un elenco delle strade che dobbiamo asfaltare, ovviamente non riusciamo ad asfaltarle tutte e contemporaneamente Inevitabilmente c'è un elenco di priorità, adesso faremo un asfalto di altre 800 mila euro Ovviamente le priorità sono date dalla pericolosità, dal traffico, dall'intensità Tipo via Roma, giusto? Adesso faremo via Roma, via Chiaruccia, quelle strade molto trafficate che hanno una situazione pesante Ovviamente sono strade che hanno costi altissimi, quindi il rischio alcune volte è che una sola strada possa occupare quasi tutte le risorse Però su questo mi piacerebbe sottolineare un aspetto Vorrei ricordare, adesso mi avvio agli ultimi mesi da sindaco di questa bellissima città, lasciatemelo dire, io sono innamorato della nostra Fano E quando sono arrivato la città era bombardata se guardavamo le strade Ricordo l'assessore ai lavori pubblici precedente al mio arrivo, anche per una situazione difficile che ci si trovava C'era il patto di stabilità perché queste cose vanno riconosciute Feceva degli interventi, intervisti dove invitava a andare piano perché le strade erano piene di buche E ovviamente quello è stato un periodo dove manutenzione non si è fatta Quando siamo arrivati, un anno e mezzo dopo siamo partiti con i primi interventi importanti Ricordo che facemmo subito un primo intervento significativo Beh, in questi dieci anni noi abbiamo asfaltato oltre 200 chilometri di strade Ne abbiamo 430 circa È impossibile asfaltarle tutte e 400 Nello storico l'amministrazione comunale che è stata più virtuosa che in un decennio È stata quella quando era sindaco Carnaroli che asfaltò 100 chilometri di strade Beh, noi ne abbiamo fatto il doppio, più del doppio E ovviamente ci sono, essendo 400, dove siamo intervenuti abbiamo preso l'applauso Dove non siamo intervenuti ovviamente creiamo, manteniamo, non creiamo, manteniamo uno scontento Il tema vero è quello che noi abbiamo cercato di creare una circolarità in modo tale che ci sia una manutenzione costante Però quando c'è un vuoto di diversi anni questo diventa più complicato E immagino anche in successione perché le prime strade che abbiamo asfaltato iniziano ad avere già dei segnali di bisogno di un ulteriore intervento Quindi per quella strada in questo primo intervento che faremo entro aprile non è previsto Sta nell'elenco però ecco qui dopo starà anche chi verrà dopo di me Io cercherò di inserire altri 2-3 milioni di nuove asfaltature che non riuscirò a realizzare prima di giugno Però saranno a disposizione di chi verrà dopo Sono Angelina, abitante di Sant'Orso Vorrei sapere se la nuova rotonda che hanno fatto, quella che collega via Sant'Eusebio, via Bellandre e via Giangolini Verrà modificata perché così è pericolosa? Vediamo le immagini che ci ha inviato la telespettatrice Rimarrata, le sindaco? Al momento gli uffici mi dicono che non verrà modificata Ah ecco, quindi sono accorti anche loro di qualcosa che non va Adesso ci passerò anche, la strada la faccio spesso Non reputano che abbia, adesso nell'immediato insomma non è previsto un intervento Altre fotografie ci sono inviate In dieci anni come mai non siete mai intervenuti nei giardini della Rocca Dove il degrado, lo spaccio regnano indisturbati Il lato della ferrovia è una discarica, viene gettato di tutto Molti rifiuti rimangono anche aggrappati sui rovi che sporgono Ed è insomma, non è proprio un bel vedere I controlli a spot non servono a nulla Sì, qui c'è da dire un po' di cose Intanto al di là delle mura Siamo nella presa della ferrovia Non è che possiamo andare in una zona riservata a RFI Anche se noi abbiamo previsto un intervento sulle mura Anzi da tempo, finanziato, appaltato, affidato i lavori Purtroppo la ditta che doveva eseguirli non li sta eseguendo Sono mesi sulla quale insistiamo L'assessore Brunori sta facendo lavoro di insistenza Sono sei mesi che a questo punto si... anche di più forse E sai quando ci sono queste situazioni Sono critiche perché poi ci creano il rischio di contenziosi Però a questo punto dobbiamo procedere alla seconda Quindi è solo una questione di uffici che devono passare Alla seconda ditta che era in graduatoria Per quello che riguarda la sicurezza Anche su questo vorrei dire Oltre a delle azioni che sono state fatte Anche azioni di carattere sociale Di dialogo, anche di coinvolgimento con alcuni di questi ragazzi Perché le misure repressive non sempre sono la miglior risposta per recuperare Perché qui parliamo di disagio Non parliamo di criminalità o di bande, gang come le chiamano giovanile Però è di disagio dove si creano anche atti di teppismo alcune volte Però su questo abbiamo installato nove telecamere Quindi non è intervento spot C'è una videosorveglianza costante H24 Sono nove telecamere Poi ci sono alcune piccole manutenzioni che vanno fatte Queste sì Nell'immagine veniva riportata quelle buche Quell'accesso pedonale che porta Quella successiva al momento di pioggia Lì si sta facendo un lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche Anche con l'Istituto Genga Si fa anche un bel lavoro coinvolgendo i giovani E questo qua In quel progetto c'è anche la risistemazione E viene riqualificato anche quel Ovviamente non è immediato Adesso per quanto riguarda quei tre cerchi Ovviamente dirò subito di intervenire per portare una sistemazione Una toppa come si dice nel vero senso della parola Però c'è lì un'ambizione maggiore Quella di dare una situazione migliore Perché è un angolo importante La Rocca grazie ai nostri interventi È ritornata a disposizione della città Siamo stati noi con l'erosindaco Quando abbiamo fatto questa scelta di fare quell'investimento Oggi ce lo siamo dimenticati Perché ci siamo abituati alle tante offerte Che la Rocca specialmente nel periodo estivo ci offre Ma non solo E quindi ecco volevo dire che è sotto la nostra attenzione Alcune cose sono già fatte Altre se ne faranno Anche a nome dei residenti delle vie Nolfi De Borgoggelli e della Valle a Fano Volevo segnalare due situazioni Ci scrive La prima riguarda il traffico intenso E il parcheggio in queste vie Da parte di automobilisti Che non hanno il permesso per entrare in ZTL La seconda più urgente È di disordine pubblico Da parte di ragazzi italiani ed extracomunitari Anche minorenni Che soprattutto nel fine settimana Alla sera e notte inoltrata Consumano al bar vicino della zona Poi si raggruppano vicino agli ingressi Sotto le finestre dei residenti indisturbati Ubriachi sporcano La telespettatrice parla anche di spaccio di droga Approfittando dei vicoli scuri e senza videocamere Più volte abbiamo chiamato le forze dell'ordine Che intervengono Ma poi quando questi ragazzi fugono Appena la polizia e i carabinieri se ne vanno Loro ritornano Quindi le chiedono telecamere e più illuminazione Un problema che è stato affrontato Sì, lo conosciamo Anche le forze dell'ordine Lo stanno monitorando Perché poi è una loro competenza Io sono in costante rapporto Devo anche riconoscere Che c'è un lavoro importante Che viene fatto per la nostra città Adesso poi non è che Quando si fanno operazioni di controllo Anche di intervento I comunicati di stampa sono sempre dopo E quelle che fanno le forze dell'ordine Ma posso assicurare Che c'è un dialogo C'è una sinergia C'è un'attenzione costante Ma qualche telecamera più in centro? Anche adesso ci arriva anche una buona professionalità Sulle telecamere Ogni anno investiamo nuove telecamere Poi anche qui le procedure Non è che si fanno in due giorni Ma fatte alle gare Non siamo privati Che ci alziamo Andiamo e dite Venite a montare Abbiamo delle procedure da seguire Che si uniscono a tante altre procedure Perché questo Non dobbiamo dimenticarlo Però per il centro Sono state previste altre Proprio tenendo conto Delle situazioni di maggior disagio Anche se a Fano si vive bene Però questa è una ferita aperta Lo sappiamo Anzi Mi dispiace E mi scuso Anche con i residenti Anche se Ovviamente L'ordine pubblico Non è mansione del sindaco Non si può sostituire Alle forze Dell'ordine Ma fa la sua parte Nel dialogo E nel richiamare Nel costituire anche Dei tavoli di sicurezza Che sono stati fatti Locali E anche Anche provinciali Però la polizia locale L'obiettivo è quello di Incrementare anche lì La videosorveglianza Per il traffico Effettivamente hanno ragione Perché troppi Sapendo che non c'è un controllo costante Troppi passano senza permesso In zona ZTL Anche lì andrebbe messa una telecamera Che rileva coloro che passano Arriveremo anche questo O arriveranno Che ho loro Che verrà dopo di me Però sta in un programma In un percorso A Cucurano davanti al bar centrale L'illuminazione pubblica è fuori uso Da parecchio tempo Visto l'alto numero di incidenti Anche mortali Insomma Ebbene intervenire il prima possibile Si lì basta Anche i cittadini Possono farlo tranquillamente C'è un servizio che funziona molto bene La ASET ha un servizio di intervento E gli interventi sono tutti molto veloci In giornata E quando non lo è In 48 ore Novità sul nuovo Palasport? Le chiedono? Ne riparliamo tra un po' Ancora non si può dire nulla Sindaco Però vuol dire che qualcosa si muove forse Vediamo Insomma Sta nelle nostre desiderate Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità E poi torniamo a leggere i vostri messaggi Parleremo dei capannoni del Carnevale Insomma di tanti altri argomenti A tra poco Siamo di nuovo in diretta Con il sindaco di Fano Massimo Seri Continuiamo a leggere i messaggi Le chiedono se ci sono novità Per un intervento su via Carlo Pisacani Visto che quando piove Il più delle volte si allaga Beh quello era uno degli obiettivi Che ci eravamo dati E da subito ci siamo Insieme a Chiad Aset Sono stati fatti dei progetti Per dare una risposta definitiva A quella zona Che ha delle complessità Dovute anche Alle costruzioni che sono state fatte negli anni Che non hanno tenuto conto Di determinati lavori Che potevano Dare delle risposte A quella problematica Però anche su questo C'è stata proprio una riunione Condotta dal vice sindaco E dall'assessore lavori pubblici Insieme con Aset Proprio per parlare di questo Perché un lascito Che avrà in eredità Chi verrà dopo di me Sono risorse importanti Da utilizzare proprio Per dare una risposta A un intervento significativo Su via Pisacani Che ovviamente Per la complessità del lavoro Richiederà del tempo Qualche anno Un paio d'anni Immagino di tratutto Però ecco Su questo Se non ci sono incidenti Di percorso Abbiamo delle risorse Sulle quali ci siamo inseriti Con quelle delle emergenze Che fino a fatto il progetto Per l'ex caserma Paolini Sono previste le telecamere? Beh L'ex caserma Paolini Non è un problema delle telecamere È un È un tema di valorizzazione È nel cuore della città È uno spazio importantissimo Con delle potenziali Potenzialità straordinarie E io spero Molto presto Di poter fare Una piacevole comunicazione Posso dire questo Al momento Che stiamo lavorando Insieme all'assessore Cucchiarini Per Portare un risultato Storico Importante Per la nostra città E Ci riesco anche in questo Veramente Penso Di aver messo mano In questi dieci anni In tutte le questioni Della città Sandro Goffi Chiede Ciao Massimo Qualche tempo fa Ha scritto Mi avevi detto Che i nuovi loculi Al cimitero di Rusciano Erano stati finanziati Con 900.000 euro E che si attendeva Al progetto definitivo Per poter effettuare L'appalto A che punto siamo? Un altro telespettatore Invece parla E chiede Dei lavori di ristrutturazione Del cimitero Quindi loculi E ristrutturazione Sì Quello che dice è vero Confermo Abbiamo dato Messo a disposizione A bilancio Queste risorse Devono lavorare Sulla progettazione Il tema vero Purtroppo Io dico no Purtroppo Per fortuna In questo momento Noi abbiamo 160 milioni Di valore Di impegni Che coinvolgono I nostri uffici Faccio un esempio Se noi siamo In una corsia D'ospedale O siamo in un'azienda Di produzione E Per una certa attività Occorrono 10 persone Ma se Quell'attività O in una corsia Per 20 persone Occorrono 10 persone Infermieri Medici O per Se invece Di 20 Noi abbiamo Una produzione Di 80 E abbiamo Le stesse persone Anche la cosa Più banale Diventa un problema Perché oggettivamente Fisicamente Impossibile Dare risposte A tutte Se non In un tempo Di tempo Che tende A scorrere Questo è L'elemento Vero Che riguarda Anche Questo tema Perché noi Nella nostra Pianificazione Facciamo delle scelte Che vanno A favore Anche Di bisogni Ma quindi Il ciumitero? Sì Ci sono 900 mila euro Però 900 mila Bisogna che c'è Fisicamente Dobbiamo affidare Quindi c'è ancora Un po' Il percorso Che deve essere Intrapreso Però Si sta andando avanti Perché Il problema esiste Esiste sia Di manutenzione Comunque Vuole dire anche Su questo Che in dieci anni Siamo intenuti In parecchie cimiterie Abbiamo anche Allargato Però Le esigenze Sono Sono tante Però ecco Si va in quella In quella direzione Le risorse ci sono E quando Il problema più grande È le risorse Quindi Sono destinate Per cui C'è Un obiettivo Da perseguire Gli uffici Appena riescono A affidare L'incarico Per la Magari È anche partito Adesso non sono Aggiornato Nei Dettagli Magari Ci stanno Anche lavorando In quest'ora Però Poi adesso Sono state Anche le feste Comunque La direzione è quella E l'auspicio Che insomma Prima che Lascio l'incarico Almeno la progettazione Deve averla Ultimata Domanda immancabile Durante i nostri Appuntamenti E quella relativa Ai bagni pubblici Sì Questa è un Cruccio Che anche io Anche su questo C'era un piano Che avevamo fatto Con Aset Perché è un'esperienza Svolta anche Nella vicina Peso Che funziona E come La collocazione L'ubicazione Una città storica Come la nostra Non è semplicissima Quindi anche Con la sovrintendenza Abbiamo dovuto fare Un lavoro Di localizzazione Di spazi Doni Con Siamo arrivati Al risultato Con Questa Pianificazione Avendo individuato Gli spazi Adesso bisogna poi Procedere Ma è recente Questa cosa Nel frattempo Però non stiamo Mani nelle mani Sono partiti I lavori Di riqualificazione Di piazza Andrea Costa Abbiamo le immagini Nella riqualificazione Diventerà molto bella Anche la piazza Andrea Costa Nella riqualificazione Verranno recuperati Anche i vecchi bagni Che oggi Sono Sono chiusi Quindi quella Già Nella palazzina Che ospita il mercato Del pesce Quindi rimane lì Esatto Anche quella È una risposta Che verrà data In attesa anche Delle altre due Collocazioni Ecco Visto che ci siamo Parliamo di piazza Andrea Costa Ecco vediamo Le immagini Vorrei dire Che se guardiamo Chiudiamo gli occhi E ripensiamo Fano dall'alto Dieci anni fa E apriamo gli occhi Oggi E fra qualche mese Dopo dieci anni Vediamo una Fano diversa Molto più bella Questa Mi piace sottolinearlo Perché giustamente Noi sempre guardiamo Le cose che non vanno Però le cose fatte Sono veramente tante E penso che Questo andranno A premiare E a valorizzare Ulteriormente La nostra città Cambiamo argomento E parliamo del carnevale Qui abbiamo alcuni messaggi Dunque Il carnevale di Fano Le dicono È molto importante Per la città E lo sappiamo Perché non avete risposto Le richieste fatte Per sistemare i capannoni Che erano allagati Con il rischio Poi di rovinare Avamo intervistato I carristi Il rischio Dicevo di rovinare Le opere Ma anche la questione Di sicurezza La prima volta Delle problematiche E avevano fatto Un primo intervento Ovviamente temporaneo Di impermeabilizzazione Perché il problema È quello Queste sono stabili Insomma Che cominciano a essere datati Hanno bisogno Di un intervento significativo Gli interventi significativi Anche qui Vanno programmati Insomma Non è che si fanno Da un giorno all'altro Però insomma Sono un po' di anni No è vero Si arriva dappertutto Questione anche qui Di tempo Di programmazione Programmazione c'è Anzi lì L'ambizione era anche quella Di farne un altro Esatto Ad aggiungerne un altro Però Io ho sempre detto Non eravamo nelle condizioni Di poterlo Progettare Proprio per le moli di lavoro Che stiamo portando Portando avanti Però Lì c'è la necessità Di un intervento Straordinario E fondamentale Importante Che verrà programmato Per i prossimi anni Adesso devo avere Anche dei preventivi Capire quanto Occorre realmente Perché c'è Un lavoro tecnico Da fare E quello che posso dire Insomma Anche qui Non è semplicissimo Abbiamo visto anche Per quanto riguarda La residenza comunale Che abbiamo avuto Problemi di questo tipo E in due stralci Siamo intervenuti Adesso interveremo Col secondo Però ecco È chiaro Che il Carnavale Confermo Con il telespettatore Che ha chiamato Che ha inviato Il messaggio Noi ci teniamo Perché in questi anni Insomma abbiamo fatto Delle scelte Importanti A favore del Carnevale E questo E anche il consentire Di poter lavorare In sicurezza E in serenità È comunque Un aspetto importante Che non sottovalutiamo Perché chiedono Anche quest'anno Si chiude il parcheggio Degli ex carri di Carnevale Per un mese Inoltre tre parcheggi In via Stampaterniano Invece vengono chiusi Con i jersey Cioè non sono Non ci si può accedere Noi residenti Del centro storico Dove dobbiamo andare Per i disabili Poi tolgono tre posti Ho parlato un attimo Con questo reporter Diceva che Il parcheggio È sempre più ammalorato E durante il periodo Il Carnevale Ci sono le giostre Cosa che potrebbe Ruminare ancora di più Il manto stradale Invece in via Stampaterniano Dopo il Carnevale Rimarrebbero Inaccessibili Questi tre parcheggi E quindi si va a influire Anche per quelli per i disagi D'altronde Certi eventi Creano un po' di scompiglio E creano disagio Questo è inevitabile Purtroppo Nelle città È così Quando ci sono Degli eventi significativi Il Carnevale È importante E ha una durata Temporale Più lunga Di altri E quindi Mi rendo conto Del problema posto Però Diceva Esigenza organizzativa Mentre per Quel ammaloramento Del parcheggio Voi avete visto In questi anni Ultimi anni Stiamo Abbiamo fatto Stiamo facendo Un lavoro importante Di riqualificazione Siamo partiti Dal parcheggio Via Risorgimento Adesso abbiamo fatto Un ottimo lavoro Del Foro Boario Avevamo previsto Anche quello Pronto soccorso Ma lì ci sarà Un intervento Di una nuova palazzina Quindi Dove c'è l'attuale Parcheggio Ci sarà la palazzina Il nuovo parcheggio Sarà a fianco E sarà nuovo Anche quello Dello sport park Ecco esatto Quello sport park Stiamo Stanno progettando La Riqualificazione Perché Quello Lo spichiamo Per l'estate Perché È uno spazio Importante E poi Successivamente Si interverrà Anche su questi Perché Hanno un Canale Però Rispetto agli altri Questo è vero Si va Però Insomma Non c'è una pericolosità C'è una situazione Che va Riqualificata Però Insomma È nell'elenco E strada facendo Si arriverà Anche lì Adesso il prossimo Sarà sport park Abbiamo pochissimi minuti Le vorrei però leggere Tutti gli ultimi messaggi Le chiedono Pensa che sia il caso Di affrontare il problema Di parcheggi Anche a Fano O pensa che vada bene così No Pensiamo Stiamo già ragionando Ovviamente La realizzazione Di un parcheggio Non è banale Perché Insomma Quindi dovremmo pensare A dei project financing Abbiamo individuato Poi non è che Ci vuole fantasia Una città come la nostra Non è che ti lascia Tanti spazi Dove poter fare Parcheggi Ci sono Delle possibilità Ovviamente Ma capito In termini tecnici E di sostenibilità Economica Le risorse Che occorrono Per questi Interventi Ovviamente Senza prendere in giro Le persone Non potranno essere cose Che faccio io Come sindaco Ma Seguirà Chi mi Mi seguirà Però su questo Insomma Alcune idee concrete Ci sono Alcune sono legate Ad altri Fatti Però c'è la necessità Di almeno un paio Di nuovi parcheggi Significativi Importanti Che legano Il centro storico E il mare Questo problema Anche L'abbiamo visto Uno nel nuovo piano regolatore Ecco esatto Le faccio una domanda Allora collegato A questo proprio Le dicono Con il nuovo PRG Si prevedono parcheggi In via Gentile Da Fabriano Insomma Perché poi Quella zona Via d'arte In una parte È previsto Un importante Spazio per parcheggi Ah bene Faccio tante camminate Soprattutto nel lungomare Era stato demolito Il rastat E poi il cantiere Si è fermato Per quale motivo Stessa cosa Lungo la passeggiata romantica Avete demolito il casellino E poi i lavori Si sono bloccati Allora Per quello che riguarda Anfettato Rastat Sono bloccati Ma in realtà Non sono bloccati Perché la ditta Sta lavorando Ci sono alcuni aspetti Non sono tecniche Però l'obiettivo C'è un'indagine Corso sulla pavimentazione Mi sembra Esatto Però la ditta Sa Conosce la tempistica Sono ditte serie Del territorio Su quale abbiamo Stiamo lavorando In diversi progetti In questi ultimi anni E devo dire Non posso che parlarne bene Perché non ci hanno mai Lasciato a piedi Hanno sempre mantenuto Gli impegni E quindi Penso che anche In questo caso Verranno rispettati Poi L'inconveniente Può esserci sempre Per carità Quando si lavora L'inconveniente Sempre dietro L'angolo Però ad oggi La tempistica Ancora mi dicono Dalla ditta Che ovviamente Poi In certi momenti Incrementeranno Anche con maggiori Persone Per quello che riguarda Invece La darsena borghese La passeggiata Che ho definito Romantica Quando sarà finita Per le sue Emozioni E suggestioni Che trasmette La prima parte In realtà Anche lì Si lavora con RFI I lavori che fanno Non devono proseguire Perché Si è demolito Il casellino Ma in realtà Bisogna togliere Anche tutta la parte Sotto C'è un aspetto Più di organizzazioni Di tempistiche Perché in ogni caso Il lavoro Verrà consegnato Era previsto Per la fine Dicembre 2024 Adesso Non so se Tarderanno Però Per l'estate 2025 Sarà tutto Ultimato Ma lì diventerà Qualcosa di straordinario Anche su questo Sono veramente Contento Anche se non avrò La soddisfazione Di essere Io che taglio Quel nastro Però è un risultato Che ho portato Grazie ad una Mediazione personale Con RFI Che ha portato Un investimento Di 5 milioni Da parte Proprio Di RFI Per due Sottopassi E questo Consentirà Di arrivare Fino Al faro Dove lì Ci sono altri Progetti Che verranno Presentati Anche nei prossimi Giorni In parte Sono già presentati Di riqualificazione Insomma Con il Manfrini Che è diventato Di nostra proprietà Su cui Sono stati Stanziati Già 2 milioni Nel 2024 Partiranno I lavori Anche lì E quindi Veramente Ci sarà Una parte Città Che fino All'altro ieri Era Non era Di interesse Delle amministrazioni E non era Valorizzata E con questi Interventi Assumerà Un valore E una bellezza Veramente Importanti Abbiamo tre minuti Per cui Intanto Le segnalano La strada Tombaccia Accaminate Gli abitanti Sono dilusi Non è stata rifatta Un altro telespettatore Dice Venendo da Pesaro In zona Gimara Ci sono delle vele Completamente arrugginite Che insieme al palazzetto Fatisciente I cartelli rotti E caduti a terra Sì Il palazzetto Non è nostro Quello lì È privato Lo diciamo E poi Sono da poco Residente a Marotta La pseudo complanare Di Fano È molto scomoda È anche un po' Inutile Essere confrontata Con quella di Senigallia Sono previste migliorie Invece Per l'arretramento Della ferrovia A che punto siamo Abbiamo due numeri Perché poi abbiamo La chiusura tassativa Beh Lì la situazione Ovviamente Non è l'amministrazione comunale Che interviene Sono scelte governative C'era un percorso Avviato Di arretramento Molto interessante Specialmente Per Fano Pesaro Per Pesaro Fano Venendo giù da nord Seguendo verso sud Adesso il nuovo governo Probabilmente vorrà portare Delle modifiche Non abbiamo capito bene Di cosa Si parla E quindi sarà Argomento Dei prossimi mesi Ma ovviamente Parliamo di opere Che riguarderanno I prossimi anni E uso il plurale Con i puntini 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 I miei nonni chiedono Delle tre scogliere In via del bersaglio Ce la facciamo In pochi secondi In via del bersaglio Le scogliere Anche lì Ce la facciamo Nel senso La facciamo Ok Perfetto Questa Riusciamo a dare Anche delle tempistiche Dovrei sapere l'ufficio Ma insomma È tutto avviato Quindi È un'opera Che verrà fatta Ma non Verrà 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 breve Insomma Sindaco Grazie per essere stato con noi Un ringraziamento Anche a regista Riccardo Sora E a Cristiana Guerra Per l'aiuto fondamentale Durante le nostre dirette Ci rivediamo presto Buonasera a tutti E tante belle cose E buona fortuna Visto che siamo Una città della fortuna Ci rivediamo tra poco Invece per il telegiornale Le 20 e 30 E quindi Buona serata Tra un'oretta circa Grazie a tutti